buongiorno buongiorno a tutti da karim buongiorno allora cominciamo nove come avevo permesso di million day del 29 oggi 29 luglio per cinque colpi ieri è uscito circa 2 3 i numeri e adesso proviamo a giocare altri due coloni di million day ok allora allora ieri sera sul 10 all'otto abbiamo preso due numeri sull'extra le spese diciamo e poi abbiamo preso anche sull'otto mio che ha giocato il giornalino dell'otto mio abbiamo preso 3 sull'extra 25 euro più uniti tutti insieme abbiamo preso anche sempre sull'extra allora scusate perché continua a spegnere se il telefonino qua perché il discorso dell'audio adesso lo sto facendo registrazioni con con tablet però non sto mai fermo niente adesso l'otto sicco avete visto che è uscito nel 2 è uscito il 2 su su bari e su nazionale e poi anche il 10 è uscito su su bari che ha fatto io avevo avvisato che giocarle su solo napoli però qualcuno ha giocato anche su bari 10 il 24 il 2 il 12 sono contento che hanno fatto ambo su quartina e si continua stessi numeri identici sempre su 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 sempre sulle stesse ruote il allora stessi che ho dato al 12 il 2 e poi come avevo detto il 24 il 10 sono napoli però che volevo giocarle tutti insieme giocatelo tutti insieme ok allora per milioni dei ragazzi giochiamo questi numeri qua eccoli qua 1 3 24 26 28 e poi il 8 26 28 48 e 54 scusate perché questo registrazione che sto facendo l'ho fatto un po male l'importante che si sente ok allora ripeto milioni dei dal dal 29 luglio per cinque colpi ok se escono domani per esempio a 33 o quattro numeri non lo sapete che cambio ok come solito e super all'otto quelli che mi chiedono se devi cambiare super non vale la pena di cambiare super all'otto non vale la pena continuiamo sempre con le stesse numeri di super all'otto ok che non la vede lo trovate nel canale youtube davanti andate in colate in verso basso lo trovate ok e scusate perché qua continua a spegnersi ok ci siamo avete preso la lotta eccoli qua allora chi voleva giocare il sistema ridotto lo sapete come funziona prendete tutti insieme lo giocate tutti insieme si chiama il sistema ridotto e buona giornata a tutti alla prossima ok ciao ciao buongiorno buongiorno a tutti da carin buongiorno allora cominciamo 9 come avevo permesso di milioni dei del 29 oggi 29 luglio per cinque colpi ieri è uscito circa il 23 numeri e adesso proviamo a fare giocare altre a 32 coloni di milioni dei ok allora allora ieri sera sul 10 all'otto abbiamo preso due numeri sull'extra le spese diciamo e poi abbiamo preso anche sull'otto mio che ha giocato sul giornalino dell'otto mio abbiamo preso 3 sull'extra 25 euro più uniti tutti insieme abbiamo preso anche sempre il sole extra allora scusate perché continua a spegnere se il telefonino qua perché il discorso dell'audio adesso lo sto facendo registrazioni con con tablet però non sto mai fermo niente adesso l'otto avete visto che è uscito nel 2 è uscito il 2 su su bari e su nazionale e poi anche il 10 è uscito su su bari che ha fatto io avevo avvisato che giocarle su solo napoli però qualcuno ha giocato anche su bari 10 il 24 il 2 il 12 sono contento che hanno fatto ambo su quartina e si continua stessi numeri identici sempre su su sempre sulle stesse ruote il allora stessi che ho dato al 12 il 2 e poi come avevo detto il 24 il 10 su napoli però che volevo giocarli tutti insieme ho giocato tutti insieme ok allora per milioni dei ragazzi giochiamo questi numeri qua giochiamo questi numeri qua eccoli qua 1 3 24 26 28 e poi l'8 26 28 48 e 40 56 54 scusate perché questo registrazione sto facendo l'ho fatto un po male l'importante che si sente ok allora ripeto milioni dei dal dal 29 luglio per cinque colpi ok se escono domani per esempio a tre tre o quattro numeri lo sapete che cambio ok come solito il super all'otto quelli che mi chiami mi chiedono se devi cambiare super non vale la pena di cambiare super all'otto non vale la pena continuiamo sempre con le stesse i numeri di super all'otto ok che non la vedete lo trovate nel canale youtube dove andate andate incollati verso basso lo trovate ok e scusate perché qua continua a spegnersi ok ci siamo avete preso la lotta eccoli qua allora chi voleva giocare il sistema ridotto lo sapete come funziona prendete tutti insieme lo giocate tutti insieme si chiama il sistema ridotto e buona giornata a tutti alla prossima ok ciao ciao